e ben ritrovati cari amici ascoltatori io sono federico stern e questo è on air l'argomento del giorno sono i modellini e a parlarcene sarà un vero esperto che è elis sernesi buongiorno a voi buongiorno agli ascoltatori è per me un onore essere qui con voi io ho cominciato alcuni anni fa ormai già diversi anni fa a raccogliere i modellini scala 1 43 che erano messi in allegato alla gazzetta dello sport e li ho raccolti perché erano diciamo dicevano che era la collezione completa della ferrari di formula 1 tutti i modellini della ferrari formula 1 quando finita la raccolta mi sono accorto che invece c'erano un sacco di buchi non era vero che c'erano tutti e pian pianino mi sono messo a chiudere i vari buchi poi un anno mi è venuta un'idea ho detto ma perché non do un senso a questa collezione mi è venuta questa idea ho voluto raccontare la vita di enzo ferrari attraverso i modellini scala 1 43 che sono stati delle sue vetture sono state importanti nella nella sua storia insomma infatti l'obiettivo senso che mi sono voluto dare io è proprio quello di creare una collezione didattica per poter raccontare tutti gli appassionati come è nato il mito perché tutti conoscono ferrari però molti non sanno che dietro a questo se sono delle storie incredibili così ho realizzato un espositore per poter mettere i modellini in una specie di ipotetica pit lane di partenza per dare un senso cronologico della cosa e lì è molto facile già colpo d'occhio capire la cronologia delle cose cioè vedere proprio l'evoluzione dell'automobile nel tempo il mio intento è proprio quello di portare la collezione ovunque mi venga richiesta ovunque ci possa essere l'interesse per poter approfondire questo argomento io ho realizzato questo espositore e la collezione possono essere portate spedite montate rismontate ovunque si voglia elisernesi punto wixit punto com website ricordo velocissimamente solo il tuo profilo facebook elis sernesi collection il profilo instagram sempre elis sernesi collection e magari ci vedremo di persona assolutamente così potrò vedere con i miei occhi questo veramente questa meravigliosa collezione non vi preoccupate amici ascoltatori on air torna subito voi potete rimanere sintonizzati perché le interviste non finiscono mai ciao ciao ciao